ciao sono lianna e oggi vi racconterò una storia dentro questa scatola presto venite con me spegniamo tutte le luci venite in questa scatola viveva una piccola lucina e questa lucina passava le sue giornate giocando e divertendosi questa scatola era proprio l'ideale per lei perché aveva il giusto spazio per saltare per fare le capriole e persino per volteggiare una mattina si svegliò proprio come tutte le mattine andò in bagno e mentre si lavava i denti molto bene perché le lucine si lavano i denti molto bene ma si accorse di essere non brillante come al solito un pochino più fiocca un pochino più debole e forse era perché non era tanto felice era era triste di stare sempre in questa scatola e allora e allora provò a uscire e cercò in tutti i modi di andare via uscire da questa scatola ma no questa scatola era ben sigillata era ben chiusa e cosa poteva fare si accorse però che non era la sua amata scatola renderla triste perché qui c'erano tutte le sue cose tutti i suoi giochi tutte le cose che amava poteva sempre saltare poteva sempre fare le capriole e si accorse di essere molto triste perché si sentiva sola e non aveva nessuno con cui parlare con cui giocare ma in realtà come tutti sanno le lucine mica sono da sole ci sono le stelle che le guardano e le stelle che hanno visto che la lucina era molto triste si sforzarono e si sforzarono per far arrivare la loro luce proprio da lei e far sì che potessero vedersi anche fin dalla scatola wow così la lucina non era più sola e poteva stare nella scatola in compagnia di queste bellissime luci sì quando sarebbe stata pronta la lucina sarebbe uscita dalla scatola e avrebbe visto il mondo ma adesso era contenta nella sua scatola con le sue luci presto riaccendiamo le luci spero che questa storia vi sia piaciuta e potete raccontarla anche voi se vi va utilizzando una pila o una torcia e se usate la torcia di un cellulare vi consiglio di fare un piccolo conetto di cartone per canalare la luce se vi va potete mandarci i video le foto delle vostre favole e le racconteremo insieme ciao alla prossima